E questo era il Crystal History delle 8, gli America con Heroes with no name, 8 e 10 minuti, mercoledì 11 settembre, sempre qui su Crystal Radio, in diretta su GFM96.2, Dub Plus, ma anche sulla nostra app per iOS e Android, ma anche sul sito internet, insomma sapete che se per caso vi siete persi qualcosa, poi c'è anche goodmorning.milano.it dove andare a riascoltare e rivedere tutto quello che volete, poi c'è Spotify, insomma lo sapete, ma è inutile che ve lo ripeto tutte le mattine, 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, con i problemi tecnici del Whatsapp, quindi se non vi leggiamo, abbiate pietà questa mattina, arrivano un messaggio sì e 10 no, quindi prometto che nel pomeriggio cercherò di capire qual è successo al nostro Whatsapp di redazione, ma appunto diamo invece il benvenuto perché non sono qui da solo, sono arrivati con noi ospiti qui in studio, Amalita Modena, buongiorno. 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 E Fabio Vergottini. Buongiorno. Buongiorno. Che ho avuto il piacere appunto di chiacchiare un attimino con voi fuori l'onda prima di entrare, vi ho chiesto che cosa usiamo come, così, di lascalia, presentazione del vostro nome, Amalita è coordinatrice della Rete Lavoro del Municipio 5. Sì, esatto. E fin qua, tutto bene. E Vergottini, lei mi ha detto professione agitatore sociale, già questo è un po' più complicata. Ma sì, perché mi sono inventato una professione che mi facesse divertire, sono arrivato quasi alla pensione e ha detto adesso mi diverto. Agitatore è un po' come quelle cose precedenti, non chi agita, ma chi può dall'agitazione anche creare cose positive, giustamente. Dal caos nasce tutto. Allora, siamo qui perché parliamo di una bella iniziativa che appunto c'è sul territorio del Municipio 5, dove è bello vedere queste cose, dove finalmente appunto le istituzioni, le associazioni, i privati, così, riescono a fare quella che ogni tanto abusiamo, usiamo la parola sinergia, no? Che la usiamo un po' troppo a volte. In questo caso ha funzionato bene invece e che cosa è nato? Chi vuole appunto raccontarmi un po' questo progetto che state portando avanti? Sì, direi che ha funzionato molto bene perché noi abbiamo creato una rete collaborante sul territorio che unisce gli spunti, la creatività, le esigenze che vengono presentate da persone come Fabio, quindi che conoscono molto bene la realtà, con l'insieme delle cooperative sociali, delle associazioni, dei servizi sociali che esistono nell'ambito del Municipio, perché noi crediamo fermamente che per risolvere le problematiche e in particolare quelle del lavoro, bisogna essere molto coerenti, molto presenti nel territorio. Noi crediamo che bisogna sempre partire da quelle che sono le esigenze e le realtà del territorio. Il territorio del Municipio 5, che ricordiamo un attimino, per chi ci sente dagli altri otto municipi, dove... Diciamo che parte da Piazza 24 Maggio, si irradia sul Vigentino e verso il Naviglio e arriva fino a Chiesa Rossa. Quindi è un territorio molto interessante perché è estremamente poliedrico, perché parte da una zona semicentrale, arriva a Grattosoglio, quindi arriva alla periferia e arriva anche a territori agricoli. In base a questo è anche un terreno estremamente interessante per la sperimentazione delle tematiche relative al lavoro, perché partiamo dalla ristorazione, ad esempio, che è il settore su cui abbiamo lavorato con Fabio. Andiamo all'agricoltura, andiamo all'artigianato, ma andiamo anche alla grande impresa, perché sappiamo che nell'ambito della parte di Porta Romana stanno nascendo dei poli molto importanti di grandi aziende. Quindi è un territorio che in piccolo, sono circa 125 mila abitanti, rappresenta tutta la varietà... E' un comune lombardo. Esatto, bisogna dire che i nove municipi di Milano sono ciascuno una media città del territorio, quindi è così la realtà. E quindi come appunto media città ha tutte delle problematiche, però anche delle opportunità, no? Credo giusto Fabio? Ma io direi che... Allora, mi sono incontrato con la grande disponibilità del Municipio 5. Io, come si capisce dal mio agitatore sociale, sono un po' anarchico e ho un po' difficoltà ad essere inquadrato anche con tutto ciò. A me piace essere molto pratico. Intanto dalle difficoltà che nascono le opportunità. E quindi quando uno già mi definisce Gattosoglio periferia, mi si rizza la testa. Gattosoglio è un quartiere che se io parto da Gattosoglio è centralissimo, e quindi è il Duomo che è periferico. Tanto perché capiamo le differenze così come sono. Allora, si parte dai bisogni reali. Io mi sono trovato con Napa, che è questa associazione dei ristoratori sul Naviglio Sud, si vuole fare il Naviglio Slovio dicendo. Napa, Naviglio Pavese. Naviglio Pavese, esatto. L'ultimo tratto del Naviglio Pavese, lungo la ciclabile, la vento che hanno appena fatto, mi sono trovato a vedere due cose molto divertenti sotto alcuni aspetti. I ristoratori che avevano difficoltà a trovare personale, soprattutto dopo il Covid, perché molti dei ragazzi espulsi dalla città non sono più rientrati, perché sappiamo che la nostra è una città difficile, complicata, costi alti, quindi spesso gli stipendi non coprono neanche, e qui bisognerebbe parlare molto, anche gli affitti delle case. Si aprirebbe un grande capitolo. Esatto. E trovare invece dei ragazzi, per esempio, di questa comunità di Gattosoglio, di Oklahoma, magari minori, non accompagnati, che hanno bisogno di entrare nel mondo del lavoro. Non ho fatto che un match e unire le due cose, formare i ragazzi. Fortunatamente ho trovato il municipio che mi ha ascoltato, e questa iniziativa che ha sistemato nel piccolo, perché bisogna fare le cose piccole, già tre ragazzini in un anno, ha preso una certa visione un pochino più ampia. E allora questa visione me la raccontate, voglio sapere anche di questi tre ragazzini, come dici tu, le storie, ma questa visione me la raccontate fra pochissimo, subito dopo, la prossima canzone. Ve la siete ascoltata mentre navigavate sul Naviglio Pavese questa? Ci poteva stare, no? Una navigata, mi ha pensato, ascoltando Blue Strait Shoes come se fossimo sul Mississippi. Esatto. Peccato che non si naviga. Eh, infatti, anzi, non si naviga e non si balnea. Non fate stupidaggi che dopo ci vengono a prendere a noi. Quindi, mi raccomando, parliamo del Municipio 5 perché, appunto, questa iniziativa di avviamento al lavoro, ma non solo, perché la cosa interessante è quella, non è solo l'avviamento al lavoro, è tanto di più, no? È molto di più perché noi crediamo formamente che c'è un binomio imprescindibile e inscindibile che è quello della formazione e del lavoro, che è estremamente importante. Uno dei grandi motivi per cui poi alla fine si parla di mismatch o comunque di mancanza di incontro tra la domanda e l'offerta è che la formazione non è orientata a quelle che sono le professioni e, da questo punto di vista, quindi chi cerca non trova poi le competenze che sono necessarie. Quindi noi abbiamo un substrato che è quello del territorio, al quale ci rifacciamo sempre il riferimento. E abbiamo creato questo circuito operoso tra chi fa formazione e chi poi deve inserire queste persone lavorativamente. Come diceva Fabio, ci siamo in primis orientati ai giovani, giovani che sono giovani immigrati, sono giovani sia di immigrazione recente che meno recente, sono ragazzi che molto spesso sono confusi rispetto al mondo del lavoro. Non dimentichiamo che oggi molti giovani non si sanno orientare molto bene anche dopo la scuola, abbandonano la scuola, abbandonano la formazione. E quindi noi abbiamo creato questi corsi, grazie ai fondi della garanzia occupabilità lavoratori, per piccoli gruppi, come diceva Fabio prima, quindi piccoli gruppi di ragazzi che hanno fatto la formazione, la formazione per addetto di sala, utilizzando i corsi di formazione della Galdus, ma sono stati poi, grazie a Fabio e quindi grazie all'accompagnamento di Fabio, inseriti lavorativamente nelle realtà del territorio. Dicevamo, fino adesso tre, quest'anno, che uno si vede i numeri così, dice, sembrano pochi, però già abbiamo capito che, attenzione, qui c'è un accompagnamento veramente quasi mano a mano, nel senso, sono, mi accompagni fisicamente proprio. Tre con contratti regolari di lavoro sono stati fatti da NAP, adesso ne sono altri fatti altri due con questo tipo, quindi siamo già a cinque. però ribadisco, a me piacciono i piccoli numeri, io credo che quando si fanno le cose in piccolo, ognuno fa delle cose in piccolo, si fanno tante cose delle grandi, ma soprattutto sono controllate, perché poi sappiamo quando diventano troppo grandi come la mente umana scassa. Ne ho fatti cento all'inizio anno, adesso ne sono rimasti solo due, no, invece qui... Ecco, mi piace raccontare per esempio di qualche ragazzo, perché poi dobbiamo anche personalizzare, per esempio Amin, che io ho trovato nel mio percorso, gli ho fatto la scuola di italiano, non sapeva parlare italiano, era arrivato dalla Tunisia scappando su un gommone, e mi ricordo sempre il suo primo tema, che quando mi ha raccontato questa attraversata, che a me veniva una pelle d'occa, lui mi l'ha raccontata come se fosse la festival crociere o una cosa, e infatti io gli dissi, nel primo rapporto con lui, mi dice, voto, mi ha scritto, gli ho detto, italiano 4 al 5, composizioni che ti ammazza a te, perché raccontava con gioia questa cosa che se l'avessi raccontata con mia figlia, mi veniva da piangere a me a leggere per dire questa cosa, e Amin ha fatto il suo percorso, ci ha creduto, ha fatto il suo percorso, grazie all'inizio, con una promozione di Don Gino Rigoldi, ha fatto un percorso di cucina, sono riuscito a metterlo un po' protetto in un ristorante dove io collaboro, però anche gli stessi cuochi che stavano dentro hanno cominciato a relazionarsi con lui, a capire che il mondo era diverso, che c'era delle difficoltà, e devo dire che voglio solo raccontare questo particolare, che una settimana fa ho visto Amin, che era ritornato dalla Tunisia per la prima volta, dopo cinque anni, che era a posto, con permesso di soggiorno, tutto in ordine e via dicendo adesso, e tornava con un sorriso dicendo, ho visto i miei, e dice, è stato bellissimo. Ecco, io credo che questa cosa qui ti regala talmente tanto che dici, va bene. E forse è anche un po' il motore per cui poi certe cose funzionano, perché appunto nascono le relazioni tra Amin e i cuochi, nascono poi le relazioni tra voi, delle associazioni, delle istituzioni, perché poi questa è la miglior moneta che abbiamo per farci pagare questo tipo di iniziative. Assolutamente, la parola chiave è relazione, cioè noi non dobbiamo lavorare come tanti soggetti separati, anche perché in questo modo non si riesce mai a raggiungere veramente la persona, perché il segreto di questo modo di lavorare è che è centrato sulla persona, quindi è disegnato per ogni persona. E poi, come si diceva prima, l'obiettivo principale è quello di portare le istituzioni, portare i servizi in ogni quartiere. Ad esempio, ieri noi abbiamo fatto un Recruiting Day nella sala consigliare del municipio, quindi circa una sessantina di persone hanno potuto fare un colloquio con una società che doveva assumere, in particolare si trattava di un contact center, e semplicemente iscrivendosi, insieme noi e AFOL, la rete lavoro e AFOL, hanno potuto fare un colloquio di lavoro, che sappiamo che è cosa complessa. Perché la mia vita prima mi dicevi che in questo caso parlavamo di giovani, ma non solo. No, assolutamente. Ad esempio c'è il grande tema degli over 50, di quelli che insomma gli manca magari anche pochi anni in realtà per le pensioni, ma si ritrovano a dover cercare lavoro. È assolutamente, direi, uno dei temi trascurati, ahimè, piuttosto trascurati, ma è un tema molto forte, perché oggi per l'obsolescenza tecnologica, per la trasformazione del lavoro, noi abbiamo sempre più persone che hanno una competenza, hanno una professionalità, che però purtroppo risulta poco spendibile sulle attuali esigenze del mondo del lavoro. Ed è, noi stiamo lavorando molto con queste persone, perché prima di tutto c'è un problema di supporto psicologico, perché se io ho 50 anni e mi ritrovo fuori dal mondo del lavoro, ho immediatamente una situazione di depressione. Quindi noi lavoriamo molto con loro dal punto di vista motivazionale e dal punto di vista di accompagnamento verso il cambiamento. Chiarissimo. Chiarissimo. Municipio 5 c'era un tale Alessandro, che poi si è fatto chiamare Mahmood, che invece ha fatto una certa strada, no? Sì, è divertente perché diciamo che lui ha iniziato a Musicopoli, che era una scuola di musica che era sotto il vecchio municipio, quando c'era ancora il Consiglio di Zona, il Consiglio di Zona 15 allora. Ma scherzavamo prima tra Mattiato e lui, voglio ricordare che anche Mattiato, per esempio, veniva, sembriamo il centro del mondo, il municipio 5, a mangiare lì da Claudio Sader, che è proprio in Nappa, e quindi si incontrano... E allora abbiamo parlato di Mahmood, andiamo ad ascoltarlo appunto con la sua Ratatà. Franco Mattiato, centro di gravità permanente. Mattiato l'abbiamo scoperto quindi essere anche... era avventore anche... Sì, veniva sempre da Sadler, quindi era... che è uno dei fondatori di Nappa, era spesso... Questo amore per il naviglio, questo amore... chissà, cos'era... Ma sai, quello che quel naviglio... Forse per la buona cucina, semplicemente. Sì, no, ma ti dirò che mi fa molto ridere perché ormai ho i miei anni come mi si vede dalla mia barba bianca. Però quando ero un ragazzino, e quindi anni 60, io mi ricordo che mio papà mi diceva arrivano i milanesi in gita e arrivavano lungo il naviglio queste macchine che si fermavano in queste trattorie dove si mangiava pane e salame, si suonava la chitarra e lì ci sono stati, voglio dire, mi ricordo dai gatti che andavano sul tetto a suonare Gatti Vicolo Miracoli, a, voglio dire, a Cocchi Renato, che erano la coca fallata, quindi questi che creavano queste serate col pinza che suonava e la gente che arrivava. E alcuni di queste trattorie si sono trasformati anche in ristoranti di Punto di Nappa, del territorio, fatti da giovani, che è divertente questo passaggio di consegna. Mi raccontate che, insomma, le cose, se si mette, funzionano, però quanta fatica, chissà, no? Quanta fatica e quanta rabbia, adesso esce l'agitatore che c'è. Nel mio nome, nel senso che si fa una fatica incredibile a superare ogni ostacolo, perché nonostante questo buon rapporto che io adesso ho con il Municipio 5, non so, solo per avere il permesso per uno di questi ragazzi, che sono minorenni, che derivi al lavoro, che devi trovare il lavoro a 17 anni, 364 giorni, se no gli devono tornare a casa loro perché diventano maggiorenni. solo accompagnarli in questura perché abbiano il permesso, il soggiorno e l'abitazione, spesso li ospitiamo noi a casa nostra, noi volontari, per avere questa cosa, un problema che non ti dico sulla burocrazia, perché ognuno non vuole mai pigliarsi le responsabilità. Ah beh, questa responsabilità è un tema che spesso tocchiamo ed è uno dei grossi temi che rallentano poi tutto quanto. Ma la domanda però a quel punto è, chi te lo fa fare? Amin che torna e sorride perché ha visto i suoi. Cioè questo ti dà una carica che io ieri sono partito e avrei fatto chissà che, cioè la carica umana che ti arriva è enorme e non ha comparazione. Non ho né stipendi né niente, ma credo di essere l'uomo più ricco del mondo in questi momenti. Ecco, Aminita, invece il municipio, ultimamente, nell'ultimo anno soprattutto, mi sembra di aver visto che tutti i municipi in realtà, incominciano ad essere un pochino presi più in considerazione dal, chiamiamolo potere centrale, passami questo termine, c'è ancora però tanta strada da fare, nel senso che veramente i municipi, io l'ho sempre detto qui in questa trasmissione, lo diciamo spesso, dovrebbero essere i primi nostri interlocutori, e non solo l'ufficio riclami dove andare a dire le cose che non funzionano, ma anzi quelle con cui fare, costruire. Il mio sindaco della mia zona, del mio municipio, dovrebbe essere appunto il presidente del mio municipio. Non è ancora così, è ancora un po' difficile. Però qualcosa forse sta cambiando, no? Sta cambiando perché ci si sta rendendo conto che il municipio è lo snodo della città e soprattutto si sta facendo molta mente locale sulla necessità di avere un'economia di prossimità, soprattutto dopo il Covid. Molte persone hanno ritenuto che avere una qualità della vita accettabile vuol dire anche non spendere due ore al giorno per spostarsi per le varie attività lavorative. E quindi direi che a tutti i livelli si è fatta mente locale sulla necessità di avere le attività produttive distribuite sul territorio, ma con un'attenzione sulla possibilità di mettere in comunicazione i posti di lavoro e chi deve recarsi al posto di lavoro in un tessuto di economia di prossimità. Sappiamo che sono stati lanciati tre bandi per l'economia di prossimità dal Comune di Milano e per quello che riguarda l'attuazione di questi bandi il municipio è l'elemento centrale di coordinamento, di proposta sia per quello che riguarda le attività commerciali che l'economia civile che i cosiddetti spazi ibridi, cioè quegli spazi dove abbiamo sia attività commerciali che attività di intrattenimento e così via. La parola chiave poi che unisce Fabio, le istituzioni e tutte le cooperative e la parola chiave è comunità perché noi dobbiamo superare una visione individualistica della società e questo è una necessità anche economica, non è solo una necessità morale o sociale, è anche una necessità economica. Quindi l'importante è che volontari come me, come Fabio, si uniscano e si crei un senso di comunità che può portare avanti lo sviluppo dei territori e lo sviluppo delle persone. Questo è fondamentale, lo spirito di comunità, le relazioni, come dicevi prima, torniamo a parlare di quello. È più difficile, è meno difficile creare queste relazioni su questo territorio adesso, prima? No, diciamo... Il tuo curriculum, ci raccontavi prima, è dannata, quindi poi hai visto l'evoluzione anche, no? No, diciamo che... Allora, prima di tutto devono essere una comunità di relazioni tra persone che si devono anche divertire. Cioè io dico sempre che dobbiamo, scherzando, dobbiamo finire con una bottiglia di vino perché nascono le idee e nasce anche il momento di stare bene assieme con le persone con cui stai facendo delle cose. Poi arriva la rabbia perché tu per avere un permesso devi metterci otto ore e qualche palazzinaro per fare la sua casa ci metto dieci minuti. Va bene, allora dopo ci racconti invece come poter fare se non sei un palazzinaro, va bene Fabio? Oh yeah, i blur con Song 2. Allora, Fabio, appunto, l'abbiamo messa perché tu hai lanciato la bomba quindi andava bene così, no? Sì, perché dici, a volte poi per fare delle cose ho chiedi mille permessi poi invece mi costruiscono... Il bosco orizzontale e tra l'altro ci levano la ricicleria che noi in municipio 5 adesso fortunatamente poi anche qui interviene il municipio Buon Natale Carapellese che tratta con ansa e fa una ricicleria inventata in fondo al nostro municipio dove si può andare perché altrimenti dovevamo andare all'oggettina dall'altra parte e poi abbiamo ne parlavamo prima abbiamo uno splendido borgo che è del nostro municipio che è Chiaravalle e che ti fanno lo stadio. E su questo so che il municipio insomma si sta muovendo il municipio sta è che posso dire sono riuscito a fare alle 840 si può dire incazzare sono riuscito a fare incazzare tutti pur i monaci questa cosa quando i monaci si sono ancora detto vabbè è veramente il massimo il municipio si è molto attivato tanto è vero che sollecitando è riuscito ad avere anche un finanziamento di 30 milioni proprio per quello che riguarda lo sviluppo dell'area di Chiesa Rossa quindi sicuramente il municipio ha questa visione dei problemi delle persone e della realtà del territorio che è fondamentale ovviamente noi siamo nati come rete lavoro 5 nel municipio 5 ma l'obiettivo è far sì che tutti i nove municipi abbiano una loro rete e che tutti insieme si possa fare pressione sui giusti livelli istituzionali perché si muovano promuovendo leggi promuovendo facilitazioni normative promuovendo quelle che sono le fluidificazioni e le mobilitazioni e smobilitazioni della burocrazia che sono indispensabili quindi sicuramente l'obiettivo è quello di creare una mentalità che metta appunto il per quello che ci riguarda sicuramente noi lavoriamo molto sulle professioni sulle attività imprenditoriali sul lavoro e quindi è quello che è il nostro focus primario però questo vale per tutte le tematiche vale per la casa vale per la mobilità vale per il verde il verde è importantissimo perché ci sono tantissime associazioni sul territorio che si occupano di presidiare e curare il verde vanno messe in relazione e avere un costante rapporto con gli assessorati in modo tale da preservare i boschi esistenti e crearne di nuovi se mi permetti vedevo la mano di Fabio chiedere è anche un problema però di comunicazione perché vorrei che mi spiegassero perché la biodiversità del verde nelle periferie non si taglia l'erba per mantenere la biodiversità e in centro la biodiversità non c'è e tagliano l'erba forse vogliono bene hanno i quartieri un po' meno periferici e ci lasciano bene ma io dico la cosa è semplicità praticità e facciamo le commissioni queste cose esempio pratico le case noi abbiamo un problema di questi non solo dei ragazzi che inseriamo noi ma io parlo delle persone che lavorano che guadagnano anche 1300 1400 1500 euro possono avere uno stipendio decente che non hanno la fortuna di avere una casa e devono spendere 800 1000 euro per avere un affitto allora mi chiedo come sia possibile che ci sia questa situazione con delle case popolari sfitte allora quando io ho provato a parlarne perché sono testone con i grandi mega pensatori mi dicono ah molte di queste case sono sfitte perché non sono agibili ok allora dico bene bene che il comune il municipio chi volete voi andasse a parlare con le banche facesse dei finanziamenti a dei ragazzi anche che hanno un monoredito che possono avere non gli ultimi ma i penultimi in questo caso le povere partite ive che facciano loro un finanziamento che possono avere un mutuo e possono pagare la rimessa a posto della loro casa non si può dare il patrimonio cittadino domanda risposto diamogli l'incomodato d'uso per 10 15 anni 20 anni uno con un piccolo affitto si mette a posto la casa recupera delle persone garantisce anche che nelle case popolari ci siano delle persone monoredito che lavorano e risolvi semplicissimo mi spiegano mi spiegate perché non lo fanno perché non è non è mai stato fatto a volte ti rispondono così perché ci vuole l'appalto perché bisogna il bando e ritorniamo per invece tirare su dal garage i 64 piani basta una piccola scia in un blocco da 20 piani a 64 ogni canzone che mandiamo aumenta ogni 30 piani siamo talmente esasperati e allora sentiamo quanti piani diventeranno dopo aver scelto Shade per sempre per sempre mai Shade per sempre mai insieme a Federica Carta alle 8.50 qui su Cristal Radio Good Morning Milano siamo quasi in chiusura chiudiamo quindi allora il mondo del lavoro il lavoro Municipio 5 è un'azione continua però sì è un'azione continua perché l'obiettivo che noi abbiamo è quello di creare una nuova fase di Milano riteniamo che una certa fase si sia chiusa si sia chiusa anche positivamente perché in fondo Milano è diventata una grande città internazionale ma adesso questa grande città internazionale deve diventare una città che ascolta e risolve i problemi dei quartieri e dei cittadini quindi noi riteniamo che sia iniziata l'epoca della costruzione di questa relazione della costruzione della città policentrica che mette sempre più al centro della propria azione i bisogni delle persone di cui noi abbiamo parlato oggi quindi il lavoro la casa gli spostamenti e per chiudere in bellezza la felicità noi vogliamo che le persone si trovino bene nel nostro territorio è fondamentale e si cerchi sempre di trovare il fil la felicità interna lorda come facevano nel Fintando perché ce l'abbiamo studiata lì Fabio invece per essere felici si può fare anche festa volendo si può fare anche festa qui ritorna il Fabio sociale basta agitatore io invito tutti quelli che vogliono venire il 29 settembre facciamo la festa di Napa lo trovate sui social dove volete sarà una festa in cui tutti i ristoratori anche ristoratori di un certo tipo daranno dei piatti a prezzi popolari poi ci sarà la funk che suonerà arti di strada donne e madri che faranno i suoi spettacoli per i ragazzini insomma un quartiere che si mostra che si diverte che canta che brinda che beve che balla forse è proprio questo quello che diciamo le relazioni si le relazioni le relazioni la comunità che vuol dire risolvere i problemi ma anche stare bene assieme e allora davvero grazie mille a Malita grazie a voi a Malita Modena coordinatrice della rete grazie a voi e grazie a tutti per l'ascolto ma grazie a te appunto quindi saluti anche porti i nostri saluti al municipio 5 e poi grazie a Fabio Vergottini agitatore sociale ma in realtà poi abbiamo che vedere c'è una bravissima persona ma sì 29 settembre festa di Napa com'è che dicevano mi disegnano così poi in realtà è una brava persona dai è anche facile da ricordare 29 settembre perché ci ricorda qualcosa quindi 29 settembre seduto in quel caffè io aspettavo te che mi chiedi la nostra festa guardavo il naviglio passare esatto quindi tenetelo presente va bene allora andiamo con la nostra sigla 8 e 53 minuti quasi 54 volge al termine questa puntata di oggi mercoledì 11 settembre di Good Morning Milano dopo di noi alle 9.05 dopo il giornale radio dopo luce verde chi c'è c'è lui Ambrogio Curti di ConsentiQuesta quello stesso Ambrogio che avete ascoltato questa mattina qui con me nella prima ora bene adesso è pronto lì davanti al mixer davanti al microfono per raccontarci la musica e come ce la racconta lui mai nessuno eh SentiQuesta alle 9.05 se invece volete riascoltare tutto quello che è successo in questa puntata o nelle puntate precedenti c'è il nostro sito di internet goodmorning.milano.it c'è anche il podcast su Spotify ed Apple Music c'è anche YouTube c'è anche domani mattina la diretta dalle 7 eh sì tutte le mattine dalle 7 alle 9 in diretta su Crystal Radio siamo qua pronti a raccontarvi la città raccontarvi tutto quello che succede nella città metropolitana quello che succede in Milano come vi dico sempre quello che fa grande la nostra città e le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Ambrogio di Amalita di Fabio e anche dell'altro Fabio che sarei io coautivate alla regia da Ginevra e Beatrice quindi grazie mille a tutti ci sentiamo domani sempre qui in diretta good morning Milano